Buonasera, bentrovati alla terza edizione del nostro TG6 che apriamo parlando ancora della tragedia accaduta la scorsa notte in Francia, a Parigi con gli attentati da parte dei miliziani dell'ISIS. Sono arrivate diverse rivendicazioni, orrore senza fine nella capitale parigina, il bilancio aggiornato a pochi minuti fa è di 128 morti, 250 feriti di cui 99 in condizioni molto gravi. Una ragazza italiana, Valeria Solesin, risulta al momento irrintracciabile, altri due italiani sono feriti. E noi per avere un quadro più completo su quello che è accaduto nelle ultime ore in Francia e proprio a Parigi abbiamo ascoltato un abruzzese che è rientrato poche ore fa, poco prima di quanto accaduto in Italia e che abbiamo ascoltato. Si tratta di Paolo Lupidi, ristoratore di origine abruzzese. Come l'11 settembre, è terribile, terribile. Mia figlia, io sono arrivata a Roma, mi ha chiamato e ha detto, guarda che qui è un po' bello. Dopo ho chiamato anche i miei colleghi al ristorante. In effetti dopo a mezzanotte la polizia ci ha fatto dividere il ristorante. Normalmente noi chiudiamo alle 5 di mattina, ma ieri, anche stasera, ho chiamato i miei colleghi, chiudiamo anche a mezzanotte. Ci sono, controlliamo i sacchi, quando la gente arriva, le borse, tutto. Quando arriva il ristorante c'è un controllo pauroso. Stamattina per dirti il racconto, tutti, normalmente la mattina apriamo un ristorante con 40 persone e stamattina sono venuti a lavorare in 10. Tutti quanti hanno paura di uscire di casa, c'è il terrore a Parigi. In effetti ho chiamato il mio collega poco tempo fa, mi ha detto che il ristorante è vuoto. Tutti i magazzini, i centri commerciali sono veramente di musei chiusi, la torre di felle è chiusa, tutto chiuso oggi. Veramente. Adesso mi hanno detto che c'è un insegnamento con una macchina armata della polizia che è formata forse di blocco. Il primo è successo allo stadio di San Demi, il primo canicazia che è esploso, era verso le 9 e mezzo, c'era un amico che era allo stadio, mi ha detto che è stato veramente, lui stava con il suo figlio, mi ha detto che credo che non va più allo stadio, mi ha detto che ho visto la morte. E' rientrato a casa alle 2 di notte, perché dopo hanno bloccato tutti, non facevano uscire nessuno, perché c'eravano paura degli altri attentati, è arrivato a casa alle 2 di notte, senza taxi, senza trasporti, veramente un caos, si era a faricero, un caos. E su quanto accaduto nella capitale transalpina si registra anche il cordoglio del presidente della regione D'Alfonso, dinanzi alle immagini, alle notizie che arrivano dalla Francia, ha detto il governatore della regione Abruzzo, è facile cadere nella tentazione di reagire emotivamente, invece dobbiamo fare appello, ha detto D'Alfonso, a tutta la nostra razionalità, per capire cosa è accaduto e soprattutto perché l'Islam è una religione come tale, va rispettata, mentre chi uccide semina terrore, non merita rispetto, ma solo il giusto castigo. Prego, ha detto D'Alfonso, per tutte le vittime degli attentati di Parigi, prego affinché non si debbano piangere altri morti, per assurde guerre di religione, prego per una pace che sia anche figlia dell'integrazione. Lasciamo quest'ampia e doverosa pagina sugli attentati di Parigi, torniamo alle vicende di casa nostra, andiamo a Pescara dove si torna a parlare di criminalità e assenza di sicurezza in alcuni quartieri, soprattutto a Fontanelle e questa mattina c'è stata una conferenza stampa del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che ha chiesto tra le altre cose un presidio fisso delle forze dell'ordine. Ne vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Un presidio fisso per le forze dell'ordine e lo sgombero degli occupanti abusivi con i fondi già stanziati nel bilancio della regione Abruzzo. Si torna a parlare di Fontanelle a Pescara, dove si ripetono episodi di spaccio e di prevaricazione nei confronti di tanti cittadini ormai stanchi e spaventati. L'emergenza sicurezza è alle stelle, non solo via Caduti per servizio, ma oggi noi stiamo qui per denunciare una serie di stanze provenienti dal territorio, Rancitelli via Lago di Borciano, Fontanelle via Caduti per servizio, le zone Gescal di Pescara e San Donato. Abbiamo raccolto le stanze di tutti i quartieri di Pescara e stiamo per organizzare una grande mobilitazione sotto al palazzo della regione Abruzzo. I cittadini addirittura oggi ci hanno denunciato che si trovano il tossico dipendente fuori dalla porta con la siringa messa nel braccio e non riescono neppure a passare, ad uscire dal poltone, hanno paura. Ci sono i bambini che entrano in contatto con le siringhe nei palazzi e stiamo parlando di alloggi popolari. L'appello di Domenico Pettinari è rivolto al presidente della regione D'Alfonso, al sindaco di Pescara Marco Alessandrini e a tutti gli attori indispensabili per il compimento di un piano che chieda finalmente sicurezza a uno dei quartieri più sensibili della città. E' non stati stanziati fondi regionali grazie al Movimento 5 Stelle per lo sfratto degli abusivi perché c'è anche il problema degli occupanti abusivi. Non si riescono a mettere attorno a un tavolo gli attori competenti che sono Regione Abruzzo Ater, sindaco di Pescara, per definire quali sfratti fare. Cioè non è più possibile, qui ci sono vittime di violenze, di angherie, persone che non ce la fanno più a convivere con gli occupanti abusivi che maggiormente le volte sono criminali puri per giudicati. Cambiamo ancora pagina, siamo alla politica contro la legge elettorale considerata anticostituzionale. L'Abruzzo, come le altre regioni d'Italia, presenta un ricorso motivato in 12 punti che mostrano l'assenza di democrazia dell'Italicum. Una manovra congiunta che vede come protagoniste tutte le regioni d'Italia. L'obiettivo è quello di dimostrare e far riconoscere l'incostituzionalità dell'Italicum e a questo scopo ogni attore mette in campo una figura professionale di riferimento. La legge elettorale mostra diversi punti ai quali appellarsi. I motivi sono gli stessi che erano stati presentati anche quando si era fatto ricorso contro il cosiddetto Porcellum, essenzialmente le liste bloccate e un premio di maggioranza spropositato. In questi casi il dubbio è sempre quello dei tempi, quanto ci vorrà? Confidiamo questa volta che il Tribunale voglia subito rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Peraltro aggiungo che abbiamo utilizzato uno strumento diverso dalla citazione, un ricorso d'urgenza quasi, diciamo un ricorso ex articolo 702 bis del Codice di Procedura Civile che consente di andare subito a decisione. Si tratta di salvare la Costituzione secondo le forze politiche scese in campo. A rispondere all'appello infatti, secondo le carte presentate da SEL, ci sono anche Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle. Penso innanzitutto i cittadini che hanno capito di che cosa si tratta. Poi ci sono delle forze politiche come la nostra, sinistra italiana, che in Parlamento si è battuta con tutte le forze che aveva a disposizione per contrastare una legge che noi riteniamo assolutamente incostituzionale perché l'Ede, il principio della sovranità popolare, non riconosce ai cittadini il potere di scelta dei parlamentari perché le liste sono in gran parte bloccate, quindi i due terzi dei parlamentari saranno decisi dalle segreterie nazionali dei partiti. E poi soprattutto prevede un premio abnorme di maggioranza perché non c'è nessuna soglia di accesso. Siamo alla pagina dell'agricoltura. L'Unione Europea ha infatti approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo. La dotazione finanziaria messa a disposizione per i prossimi sette anni è di 432 milioni di euro. Vediamo. 432 milioni di euro per i prossimi sette anni è questa la cifra che verrà distribuita in Abruzzo per il Piano di Sviluppo Rurale, una grande conquista per la Regione che vede crescere significativamente la quota dei PSR nell'arco degli ultimi 14 anni. Ieri abbiamo avuto l'adozione ufficiale del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Entro l'anno pubblicheremo i primi bandi, innanzitutto riservati ai giovani. I giovani saranno accolti nella nuova comunità agricola regionale e poi tantissime altre misure e opportunità per tutto il comparto agricolo regionale. Le categorie di intervento individuate per l'Abruzzo comprendono investimenti materiali, insediamento di giovani agricoltori e sviluppo nuove attività extraagricole, servizi di base per aree rurali, investimenti forestali, formazione e consulenza. Le misure più importanti, oltre ai giovani, riguarderanno la competitività delle imprese, lo sviluppo delle micro e micro filiere, la gestione del territorio, le acque, la viabilità, una serie di opportunità e anche di grandi situazioni positive per la nostra comunità agricola regionale, a partire dall'aggregazione, dalla cooperazione, dallo sviluppo rurale nel suo complesso. Quali restano i settori trainanti per l'Abruzzo? Sicuramente il settore del vino, il settore dell'olio, ma ci sono anche tantissime altre opportunità previste nel PSR. Innanzitutto la zootecnia, sia da carne che da latte. Dobbiamo ripristinare con successo i grandi successi del passato della zootecnia regionale e all'interno del PSR ci sono opportunità, misure e soprattutto dotazioni finanziarie necessarie per riprendere questo percorso. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale. La regione Abruzzo dice no alla centrale di compressione gas a Sulmona. A breve sarà il Consiglio dei Ministri a decidere. Il no dell'ente locale potrebbe non bastare. Una centrale di compressione gas a Sulmona, l'Abruzzo oggi a Roma ha presentato e ripetuto il suo diniego alla realizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contando che si tratta di un territorio sismico. Noi abbiamo dato attraverso tre deliberazioni di giunta regionale fino a settembre scorso il diniego all'intesa come è previsto per legge per tutta una serie di motivazioni per la problematicità del territorio in cui deve insediarsi, ovvero a Valle Peligna, ad alta sismicità, dalle valenze ambientali e paesaggistiche non indifferenti, a ridosso del Parco della Sulla della Maella e della Badia Morronese. Insomma per tutta una serie di motivazioni e anche per il modello di sviluppo che quel territorio vuole darsi, improntato alla valorizzazione delle emergenze culturali e architettoniche che vi sono presenti da secoli. A questo punto la palla passa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che dice la legge, sentito il Presidente della Legione decide se sì o se no, cioè se autorizzarla definitivamente o meno. E se l'autorizza definitivamente sarà una centrale di compressione alimentata a gas, quindi con emissioni di atmosfere e quant'altro, su cui, ripeto, la Regione di Abruzzo prima del 2011 non si è espressa. Tempi stretti per l'Abruzzo che ha espresso questa volontà solo in ultima battuta a luglio la prima volta. Come sottolinea il Sottosegretario alla Presidenza della Regione, Mario Mazzocca, ora resta solo da attendere la decisione del Consiglio dei Ministri. Aggiungo, la Regione non ha dato nessun parere al suo tempo, ecco perché adesso vedere una risoluzione presentata da membri del Centro Desti che comunque erano governo fino al 2014, fino a giugno 2014, e quando allora si aveva tutta la possibilità di esprimere il proprio dissenso, ecco, non la vedo una nota suonata per usare un eufemismo. E parliamo ora di sanità. Protesta questo pomeriggio appenne per la chiusura del punto nascita dell'ospedale San Massimo. Tanti i cittadini scesi in strada. Vediamo il servizio realizzato da Antonio Recanati. L'area Vestina torna in piazza sulla sanità, torna con un altro corteo. quella sanità, quel comitato dell'area Vestina che dice no allo smantellamento progressivo. Gabriele Frisa che è il portavoce del comitato lotta della sanità Vestina. Ecco, cosa chiedete ancora una volta alla Regione? Noi chiediamo investimenti, investimenti perché dei tagli li abbiamo avuti da vent'anni a questa parte, solo tagli e investimenti di poco superiore allo zero. Abbiamo, siamo passati dal 98 al 2015, alla metà dei posti letto e questo non ha portato nessun risparmio in tutta Abruzzo. Avete detto che il tempo delle promesse è finito? Sì, qui sotto le campagne elettorali tutti promettono, tutti promettono investimenti e poi nei fatti fanno taglie. Chiodi ha tagliato il reparto rinanimazione, dal fondo si appresta a tagliare il reparto maternità. Ed investimenti nessuno dei due li fa. I tagli non portano a nulla avete detto? I tagli non portano a nulla tranne i guadagni per le lobby delle cliniche private. Non certo per i guadagni cittadini, che nelle cliniche private si sa, se hai soldi ti curi, se non hai soldi non ti curi. Ti fanno il minimo indispensabile con le convenzioni. Io credo che i tagli siano altri. Per esempio abbiamo 90 dirigenti della regione Abruzzo che prendono 100 mila euro l'anno. 90, tra cui da Mario 130 mila euro all'anno più l'auto blu, la metà dello stipendio di Barack Obama che è il Presidente degli Stati Uniti. Figuriamoci un po' voi se bisogna tagliare la salute con diritto di tutti. E torniamo a Pescara per parlare del Ponte del Cielo contro la cui realizzazione il centro-destra. Questa mattina è sceso in piazza, c'è stato un sit-in proprio in piazza Primo Maggio e il consigliere comunale Carlo Masci ha parlato anche di una lettera che è stata scritta da Tommaso Cascella, figlio di Pietro Cascella, l'autore proprio della nave di Cascella, che si dice contrario alla costruzione proprio dietro la nave di Cascella del Ponte del Cielo. Vediamo. Il sit-in del centro-destra Unito questa mattina a Pescara davanti la nave di Cascella, non a caso per dire no al Ponte del Cielo. Sosteniamo la posizione forte della sovrintendenza. Ieri sera il maestro Tommaso Cascella, il figlio di Pietro, mi ha inviato una lettera che ovviamente mi ha detto di pubblicare, di rendere nota, in cui si oppone fortemente alla realizzazione di questo cerchio. Lui lo definisce un cerchio che creerebbe un blocco rispetto all'opera del padre che quando posizionò questa nave di fronte al mare, qui di fronte a questo spazio libero, lo fece proprio perché voleva che ci fosse un collegamento diretto fra la nave e il mare, a simboleggiare questo contatto tra Pescara e il mare unico, perché noi viviamo non soltanto sul mare, ma viviamo con il mare. Avevate pensato inizialmente anche ad una raccolta di firme? Aspettiamo il parere definitivo della sovrintendenza. Noi ci auguriamo che Alessandrini, Del Vecchio e D'Alfonso mettano da parte questa loro scellerata idea, capiscano che non si può imporre, come dice Tommaso Cascella, un'opera che non ha nulla a che vedere con questo spazio. Carlo Lizza, ex vice sindaco di Pescara, in questa vicenda del Ponte del Cielo siamo davanti la nave di Cascella. Il suo pensiero qual è? E' una offesa senza aggettivi al lavoro di Pietro Cascella. Perché? Pietro ideò questa cosa, lui era venuto a Pescara, inaugurammo l'ampliamento del museo Cascella, venne e lo portai a casa mia a mangiare una cosetta. E mentre eravamo a pranzo e disse, senti, Pescara c'è il mare e il fiume. Pensa una cosa, pensò questa nave diretta verso l'infinito e poi esponemmo il bozzetto al comune di Pescara. E quindi ritengo che una passeggiata così sia cosa superflua e non, come dire, fa emergere la bellezza grandiosa di questo monumento. Andiamo avanti, l'associazione Agbe mette in guardia dai falsi volontari che chiedono oboli per la beneficenza e intanto parte la campagna tra i negozianti, controlli sui documenti di chi cerca fondi per le opere di bene. In Abruzzo tantissime sono le segnalazioni di volontari presenti, anche per brevi periodi di tempo, all'interno di centri commerciali o fuori dai supermercati. Spesso questi volontari, generalmente provenienti da fuori regione, dopo aver richiesto denaro non sanno motivare il loro utilizzo, argomentando in maniera vaga e non circostanziata la scusa di bambini malati in ospedale e adducendo in molti casi patologie gravi come la leucemia o tumori di vario genere. Le segnalazioni hanno raggiunto l'Agbe, l'associazione che da 16 anni si occupa di bambini affetti da leucemie e tumori solidi, offrendo alloggio e servizi alle famiglie, che oggi esprime il desiderio di mettere in chiaro alcuni punti per rendere più semplice alle persone il confronto con questi pseudo volontari. Riceviamo telefonate, ma ne riceviamo diverse. Anche di domenica telefonano amici o nostri volontari. Dici, guarda Massimo, c'è una pseudo associazione in questo iper che sta chiedendo i soldi per i bambini malati di leucemia o c'è questa associazione di clown che sta chiedendo i soldi per i bambini. La fortuna è che a volte intervenendo i carabinieri o le forze dell'ordine riescono quantomeno a far capire che forse è il caso di smetterla. Purtroppo le leggi che ci sono non contemplano nulla, tutti sono liberi di chiedere fondi. A sostenere la causa dell'Agbe si sono unite anche associazioni di categoria come Confesercenti e CNA, cercando di diffondere anche verso gli esercenti la consapevolezza del fenomeno e offrendo alcuni dettagli per non finire nella rete delle truffe. Le associazioni di volontariato, quelle che sviluppano progetti seri, non chiedono soldi nei parcheggi dei centri commerciali, non chiedono soldi con il porta a porta, non vanno a cercare i 5 euro per acquistare l'ambulanza a casa delle persone e non si presentano senza realmente un identificativo, un testerino reale, una divisa addosso che sia anche una t-shirt di un'associazione. Ma quello che vogliamo dire a chi fa beneficenza, innanzitutto non fermatevi a farla, ma soprattutto fatela cominciando a fare una piccola ricerca sulle attività che svolgono delle associazioni. Noi riteniamo che, e faremo la nostra parte, bisogna sensibilizzare il mondo di chi svolge le attività economiche che sono ogni giorno punto di riferimento anche delle associazioni di volontariato per la richiesta di fondi, in modo tale da cercare di veicolare il più possibile le poche risorse che hanno a disposizione i nostri soci, i nostri associati, a progetti che avranno effettivamente, hanno la loro valenza e potranno portare al raggiungimento di obiettivi precisi. E noi andiamo all'Aquila, la ricostruzione della Basilica di Collemaggio sarà un esempio di trasparenza e legalità grazie ad un protocollo firmato anche dal prefetto aquilano Francesco Alecci, che proprio ieri aveva usato parole molto dure contro la corruzione dilagante in città e aveva detto alcuni morti di fame delinquono per reati di poche migliaia di euro. Vediamo il servizio di Germana Dorazio. La ricostruzione della Basilica di Collemaggio, simbolo della città dell'Aquila, diventa occasione per la realizzazione di un protocollo sulla trasparenza per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità negli interventi di ricostruzione. Il documento, tra i cui firmatari c'è il prefetto dell'Aquila Francesco Alecci, l'amministratore delegato di Aniservizi Claudio Brega, il soprintendente unico Alessandro Vittorini, assume un valore di protocollo di legalità e mira a regolare le iniziative e le attività che interesseranno tutto il territorio del Comune dell'Aquila in relazione al piano di restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il protocollo servirà pertanto quale strumento finalizzato a rendere corretta e trasparente ogni attività ed insediamento di impresa nell'area interessata dai lavori di restauro, che ricordiamo sono finanziati dall'ENI. Tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, ha dichiarato l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano, la Basilica di Collemaggio verrà avvolta da una recinzione studiata e di grande impatto visivo, che evidenzerà la bellezza dei particolari della Basilica stessa. La recinzione sancirà di fatto l'inizio dei lavori di restauro, che secondo la tabella di marcia dovrebbero terminare entro la fine del 2017. Inoltre, è prevista nel contratto una clausola risolutiva espressa a carico del committente in caso di informative interdittive. L'impresa appaltatrice, infine, e le eventuali subappaltatrici dovranno dichiarare la propria adesione al protocollo, che costituirà un allegato del capitolato o del contratto e sarà vincolante per l'impresa sottoscrivente. E noi restiamo all'Aquila perché è stato presentato nel capoluogo regionale il bilancio partecipativo del Comune. Vediamo il servizio di Filippo Tronca. Incontrarsi, proporre e ragionare, decidere insieme. Questa è l'essenza di un bilancio partecipativo, il cui valore nel percorso prima ancora che nel fine. Valore sottolineato con forza dall'assessore comunale Fabio Pelini e nell'illustrare il programma del bilancio partecipativo del 2015 del Comune dell'Aquila. Incentrato questa volta sugli anziani, sulle loro esigenze e progettualità. A disposizione 70.000 euro, a cui forse potranno aggiungersene altri 30.000. Gli incontri moderati dalla professoressa Lina Calandra, esperta di percorsi partecipativi, si svolgeranno nei 13 centri anziani della città e delle frazioni. Primo appuntamento il 25 novembre nel centro sociale della Rotonda, nel quartiere Torriù. Non ci saranno finanziamenti a pioggia, assicura Pelini, vista anche l'eseguità dei fondi a disposizione. Saranno premiati dunque progetti davvero validi, che porteranno un valore aggiunto alla qualità della vita in una città, dove a dover essere ricostruiti non sono solo i volumi ed edizi. Noi crediamo che gli anziani siano utilissimi alla nostra collettività e quindi vogliamo dedicare il bilancio partecipativo 2015 a loro, con le loro esigenze. Quasi pronto poi il report dei bilanci partecipativi degli anni precedenti. Ecco, possiamo anticipare qualcosa? Sì, la partecipazione si poggia su tre gambe, la terza è forse quella più importante perché è il cosiddetto monitoraggio ed è la fase che va a verificare se è stato tenuto fede a quello promesso. Monitoraggio significa in soldoni quanti soldi impegnati e quanti spesi? Esatto, quindi stiamo per pubblicare, nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla parte relativa alla partecipazione del sito ufficiale del Comune dell'Aquila, la rendicontazione, diciamo così, il monitoraggio del bilancio partecipativo 2013 che era quello relativo alle opere pubbliche e il bilancio partecipativo 2014 quello relativo all'anagrafe dei progetti partecipativi che ha visto coinvolte diverse associazioni che hanno portato progetti impattanti e che hanno manifestato buone pratiche. Un passo indietro, quali interventi, quali attività saranno oggetto di finanziamento, di aiuto che emergeranno dal basso dei centri anziani? Beh, intanto un'esigenza preliminare per due centri sociali anziani è quello della sede, stiamo parlando del centro sociale di Aragno e quello di San Basilio e su questo ci stiamo attivando e troveremo a breve una soluzione. E siamo alla pagina sportiva, apriamo con il calcio per parlare del Pescara che domani giocherà in casa del Como, fanalino di coda del campionato cadetto. Questa mattina la squadra è partita alla volta della Lombardia. Nel pomeriggio c'è stata la seduta di rifinitura da Piano Gentile. Solo nelle ore precedenti la gara, il tecnico Massimodo deciderà sull'impiego di Ugo Campagnaro al centro della difesa. Qualora non dovesse farcela, l'argentino al suo posto giocherà a Fiamozzi. Ci sarà Memusciai, reduce dall'impegno con la sua nazionale, mentre Valotti non sarà della gara per il Pescara, un impegno importante dopo due sconfitte consecutive. Mi auguro che la squadra abbia recepito la lezione, nel senso che abbia capito che in generale nel calcio, ma ancora di più in questa Serie B, i livelli sono molto simili. Sicuramente ci sono squadre che hanno più qualità, altre che hanno meno qualità, ma se mentalmente non ti metti al pari delle altre rischi di perdere con chiunque. Dato che noi di qualità ne abbiamo da vendere, se noi affrontiamo tutte le partite con la giusta mentalità e al pari delle altre squadre, per questo intendo cattiveria agonistica, corsa e quant'altro, e allora sicuramente abbiamo più possibilità delle altre squadre, perché la qualità che abbiamo noi non la vedo in tantissime squadre. Dato che la mia considerazione è quella che io temo la mia squadra e non le altre, rispetto per le altre squadre, ma temo soprattutto la mia squadra, perché so che ha dei valori importanti, però dobbiamo mettere in campo altre caratteristiche che fanno sì che tu possa fare bene e possa vincere. È una squadra che ovviamente non vive un momento molto positivo, perché c'è stato un cambio allenatore, quando si cambia allenatore vuol dire che le cose non vanno benissimo, viene da un pareggio in rimonta, nel senso che vincevano e sono stati agguantati, quindi non sta in acqua tranquilla in classifica, quindi ha bisogno di fare punti e noi anche. Quindi sarà una partita difficile che dovremo affrontare con la giusta testa. Sono cose di spogliatoio che non sto qui sicuramente a dire, però con Valotti c'è stato un altro tipo di problema che abbiamo assolutamente risolto e quindi è anche una sorta di punizione rispetto per gli altri compagni che lui in questa settimana sicuramente non avrà una maglia da titolare. Ancora calcio, ancora serie B, parliamo del Lanciano, che dopo aver avuto notizie importanti sull'impiego e sulla possibilità di giocare la gara di domani al Guido Biondi con il Crotone, si prepara appunto ad affrontare la seconda forza del campionato, formazione calabrese che sicuramente merita il massimo rispetto da parte dei frentani che dovranno fare a meno dell'infortunato. Ferrari, anche Turchi, non è al meglio. In attacco, prima punta Marilungo a centro campo, squalificato Paghera, spazio a Bacinovic. Il tecnico del Lanciano, Roberto D'Aversa, chiede ai suoi i tre punti per risollevare classifica e morale. Il Crotone è un allenatore molto preparato, molto organizzato, chiaramente adesso è un volo a studiare di entusiasmo e la partita con l'Abellino nel primo tempo è stata non bellissima da parte del Crotone, però dopo il secondo tempo è venuto a cuore, è venuto la partita, poi sarà la posizione di classifica e ti permette di giocare in maniera più serena, più libera e quindi magari diciamo che è come se non avessero niente da perdere e quindi la serenità è il fatto di magari andare in campo in maniera serena. Ma a prescindere dalla posizione di classifica che abbiamo noi, credo che nel momento in cui scendiamo in campo so che è difficile perché comunque la posizione di classifica non è di lì da parte nostra ma deve solo esserci lucidità da parte nostra per cercare di portare a casa e risultare a tutti i costi, questo è poco ma sicuro, però sempre in maniera lucida e serena. E' chiaro che penso che per i giocatori confrontarsi in questo momento con la serenità in classifica è uno stimolo in più e lì magari dopo i risultati non vengono e quindi magari giustamente si subiscono delle critiche una voglia sempre di dimostrare di non essere la squadra che sta occupando con la posizione di classifica. E dopo aver perso due sabati fa a Pescara il Crotone torna in Abruzzo con la volontà questa volta di ottenere un risultato positivo la squadra calabrese, la seconda forza del campionato e per il match di domani dovrà fare però a meno del centrocampista Salzano. Ascoltiamo come presenta la partita il tecnico calabrese Ivan Iuric. Ivan Iuric considera questo scontro tra virgolette, questo incontro meglio ancora un testa a coda? Ma sì, sulla carta sì, penso che la realtà è completamente diversa che sia Lanciano sia Crotone come Rose si equivalgono molto magari sulla griglia di partenza loro avevano qualcosa più di noi penso che i miei ragazzi sono cresciuti tanto che stanno facendo molto bene è una partita difficile perché Serie B non è come altri campionati dove c'è un abisso tra uno e l'altro qua se ti rilassi anche poco poco sei capace di perdere tante partite per cui bisogna sempre rimanere sul pezzo concentrato, andare al massimo e poi cercare di vincere le partite. Considerando che loro sono costretti a vincere perché la classifica gli impone i tre punti questo potrebbe girare a favore del Crotone? Dipende di noi può essere un'arma per loro perché vanno con tanta grinta, con volontà se noi riusciamo a ribattere colpo su colpo non essere timidosi può essere timidi può essere anche un vantaggio per noi. Non avremo Salzano perché purtroppo sta attraversando un periodo non felice gli auguriamo veramente una pronta guarigione per quanto riguarda il resto della Rosa? Manca lui che mi dispiace molto perché è un ragazzo che sta crescendo veramente Niente di grave vero? No, lui si deve operare a testicoli che ha preso una brutta botta comunque quando fai un'operazione ci vogliono tempi di recupero gli mancherà Modesto che ha un piccolo problema che vogliamo comunque che non gioca questa partita e che recupera bene per le prossime settimane. E siamo al campionato di Lega Pro per parlare del derby che si è giocato questo pomeriggio al Tommaso Fattori il derby del Gran Sasso tra l'Aquila e Teramo derby vinto dalla formazione di casa con il più classico dei risultati 2-0 il punteggio finale grazie alle reti realizzate nella ripresa da San Domenico e Perna vediamo nel servizio di Gianmarco Menga cosa è accaduto nella sfida fra Rosso Blu e Bianco Rossi Il derby del Gran Sasso va all'Aquila che riassapore i fasti dei derby play-off di tre annate fa e torna a vincere dopo il tonfo di Pisa una vittoria spartiacque per il Rosso Blu soprattutto per il momento da cui arrivavano gli uomini di Perrone diragnati dalle contestazioni verso la società l'arresto del vicepresidente Massimo Brancini nel corso della settimana e una classifica deficitaria che con una sconfitta nel derby avrebbe visto il Teramo superare gli Aquilani in classifica partita bruttina nel primo tempo con le due squadre che si studiano e lasciano poco spazio in mezzo al campo sul fronte formazioni il Teramo di Vivarini rispolverà il classico 3-4-3 annunciato con Da Silva, Moreo e Petrella in avanti nell'Aquila l'intuizione vincente di Perrone si chiama San Domenico alla destra della 3-5-2 con Milicevic per la prima volta da titolare in campionato davanti al presidente del Pescara Daniele Sebastiani al fattore ci sono circa 1500 spettatori di cui 400 assiepati nella settore ospiti riavvolgiamo il nastro e andiamo in cronaca dopo neanche un minuto cartellino giallo per Abbigoni per fallo sul peperino Petrella la partita è avara di Sussulti la prima vera chance è per il Teramo grande trama raso terra tra Petrella e Moreo che servito in area di rigore stampa la conclusione sulla traversa Zandrini battuto grande occasione mancata per l'1-0 Teramo l'Aquila risponde solo dopo la mezz'ora su un pallone scodellato in area Perna lotta con Tonti la palla arriva a Ceccarelli Providenziale Scipioni in angolo ma che chance per l'Aquila a conti fatti sono queste le due grosse opportunità per passare in vantaggio nella ripresa esce l'Aquila alla distanza mentre cede il Teramo il gol che spezza gli equilibri arriva su contropiede Mancini innescato in profondità viene chiuso quindi Ceccarelli prolunga di nuovo di testa per Mancini assist al centro per Perna controllo sontuoso destro secco respinto da Tonti arriva Sassà San Domenico tap in sotto la traversa sempre e solo lui segna il Teramo quarto gol in cinque partite giocate contro i biancorossi tra Arzanese e l'Aquila il killer del diavolo non ha però finito il lavoro poco dopo l'Aquila impacchetta il derby ancora con San Domenico stavolta in veste di assistman traversone al bacio dalla destra stacca la fermo Perna incornata all'incrocio dei pali due a zero e titoli di coda nel finale piove sul bagnato in casa Teramo ingenuità di Altobello trattenuto Perna in volata verso la porta rosso diretto per il difensore teramano e inferiorità numerica al fischio finale grande gioia in casa l'Aquila con il patron Corrado Chiodi che dedica la vittoria alla sua vice Massimo Mancini agli arresti domiciliari da metà settimana nel Teramo in sala stampa sale solo Daniello si riflette sul tonfo nel derby e soprattutto su una difesa da reinventare per la prossima partita viste le sicure assenze per la squalifica di Altobello e per Rotta Cambiamo pagina lasciamo il calcio siamo al rugby il weekend regbistico abruzzese non offre spunti di rilievo con il campionato di eccellenza che osserva infatti un turno di riposo il servizio di Germana Dorazio il weekend regbistico abruzzese non offre molte occasioni per gli appassionati della palla ovale l'Aquila Rugby Club infatti osserverà un turno di pausa insieme a tutto il campionato d'eccellenza questo stop arriva come una manna dal cielo in questo periodo nero Mercier infatti potrà approfittare della pausa per mettere a posto un paio di elementi che fino ad oggi sono stati particolarmente carenti come la mischia chiusa e l'occupazione degli spazi in fase difensiva per la serie A la Gran Sasso di Pierpaolo Rotiglio si trasferisce in terra toscana Firenze per la precisione dove affronterà i Medicei secondi in classifica e in fase positiva l'obiettivo di questa fase il terzo posto che significa salvezza matematica già a dicembre è ancora a portata di mano ma servono punti pesanti e la formazione dei grigiorossi è fortemente rimaneggiata Rotiglio dovrà fare a meno tra gli altri di giocatori del calibro di Vaggi Parisse Mannucci Lorenzetti e Lofrese in serie B l'Avezzano ospita la squadra cadetta della Capitolina avversario tutt'altro che irresistibile per salvarsi i marsicani dovranno vincere anche lo scontro diretto con il Colleferro ma cominciare a mettere in cassa qualche punto in più potrebbe facilitare non poco la marcia salvezza più morbida la situazione del Paganica vincendo domenica Colleferro i rossoneri consoliderebbero ulteriormente il secondo posto in classifica portandosi ad una distanza ragguardevole dal quarto posto in serie C girone G la polisportiva all'Aquila Rugby ospita in casa il Tivoli mentre il Cus dovrà vedersela con il Rieti in terra laziale nel Girone E la squadra cadetta della Gran Sasso ospiterà la cenerentola del Girone il San Benedetto e siamo così giunti alla termine della nostra terza edizione del TG6 grazie come sempre per averci seguito e buona serata grazie a tutti